A Mascalucì è stato convocato per martedì pomeriggio 16 dicembre alle 16 il Consiglio Comunale per riprovare a votare il piano rifiuti. Per la precisione il piano di intervento, il quadro economico e il capitolato d'appalto del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati. Adesso le forze politiche stanno valutando se presentare emendamenti al piano rifiuti dopo che era stato rinviato una settimana fa su proposta della terza commissione.